Si parla tanto in questi giorni a Marsala della pista ciclabile sul lungomare Boeo e delle sue conseguenze sul traffico cittadino. Quello di cui non si parla però è che l'intera pista ciclabile parte del lungomare potrebbe presto crollare e finire in mare. Infatti è in atto una erosione davvero incredibile da qualche tempo che sta minando alla base proprio tutto il lungomare nei pressi di Capo Boeo. Occorrerebbe un intervento urgente di riqualificazione del territorio, di rinsaldamento delle basi del lungomare, di protezione della costa perché la situazione è davvero molto precaria come vedete dalle immagini. L'erosione costiera procede a ritmo impressionante e non è difficile da prevedere che se le cose dovessero continuare così senza che nessuno si occupi di questa situazione, ben presto il lungomare Boeo potrebbe fare la fine della strada provinciale 84 che è crollata in parte in mare. Bisogna intervenire urgentemente.